E' giunto il momento, ieri sera ha parlato Rudy Garcia in grande stile, è stato presentato ai giornalisti ma anche diciamo al popolo azzurro e oggi ci ho dormito su e ne parliamo, andiamo a vedere un po' che cosa ha detto e sbobbiniamo le varie questioni. Mi sono appuntato 3-4 punti e voglio affrontarli con voi, prima di farlo però mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di like e commentate scrivendo anche la vostra opinione su Garcia come allenatore in sé per sé ma anche su come ha affrontato questa prima conferenza. E parlare avendo a fianco una figura ingombrante come De Laurentiis non è mai facile però penso che comunque Garcia se la sia giostrata molto molto bene, io lo conosco, mi ricordo di un Garcia che è veramente una persona molto schietta, molto diretta, molto pane al pane, vino al vino, uno che le cose te le dice subito. E tante cose le ha messe in chiaro e devo dire sono stato piacevolmente colpito da Garcia ieri pomeriggio perché comunque ha detto con grandissima onestà e lucidità alcune cose. Partiamo da un tema che è quasi un grido di battaglia, lui ha detto più di una volta che ok il Napoli ha fatto una grande stagione, ha fatto una bella sviolinata a Spalletti, è stato un grande tecnico, ha vinto vincere dopo Maradona, non era facile, l'ha fatto ok. Complimenti ma ora basta. Ora non bisogna adagiarsi sugli allori, ora ripartiamo perché quando vinci c'è il rischio che poi magari non hai più stimoli. Ecco questo non va bene, lui va lì per portare anche gli stimoli, per far tenere alta la concentrazione anche perché effettivamente, e ora arriviamo anche a un altro tema che è il tema alla fine poi tattico, Nelle ultime, nell'ultimo diciamo dalla primavera in poi il Napoli ha avuto una leggera flessione, poi certo dopo lo scudetto matematico non contava più e neanche lo considero. Ma il Napoli ha avuto una leggera flessione anche perché tante squadre hanno capito come bisognava prendere il Napoli, tanto è vero che Kvalaschelia nella seconda parte di stagione è stato molto meno performante rispetto alla prima. Lobotka che era stato la chiave di volta del Napoli è stato ingabbiato più di una volta, proprio perché ormai le altre squadre sono, erano, anzi riuscite a prendere le contromisure a questo Napoli. E quindi arriviamo anche al secondo tema, il tema tattico. De Laurenti si ha detto, come vi ho detto a caldo subito, perché ha scelto Garzia? Fra i tanti motivi anche perché c'è una sorta di continuità a livello tattico. Garzia gioca sempre col 4-3-3, il Napoli ha giocato col 4-3-3 e quindi comunque continui su quella scia. Vi ho fatto l'esempio, se prendi Conte, passi a tre dietro, cambi tutto, vai comunque a snaturare il Napoli, ottimo di quest'anno. Il Napoli che comunque ha vinto dominando uno scudetto, aveva senso come scelta, per me no. E quindi Garzia in questo continua, ma lui ha detto, ok è vero, ho giocato molto spesso 4-3-3, ho vinto due titoli all'IL 4-3-3, ho vinto niente alla Roma, ma due volte su due sono arrivato secondo alla Roma, comunque con questo modulo, però so anche giocare diversamente e voglio che i miei calciatori abbiano una cultura tattica, voglio che i miei siano pronti a cambiare anche a gare in corso per modificarsi in base alle esigenze comunque della partita e in base all'avversario. E questa è una grande cosa, io, se mi conoscete lo sapete, non sopporto quelli che sono integralisti tattici, non sopporto quelli che dicono io gioco così e basta, io nasco e muoio così, non ha senso. Un allenatore deve, e l'ha detto, fare il meglio con la merce umana che ha comunque a disposizione, quindi se lui ha quello lì, ok gioca 4-3-3, ma se pensa che possa anche cambiare qualcosa per adattarsi alla partita, lo deve fare in zaghi, è uno che non cambia mai, a me non dispiace, ma non mi piace questa cosa di uno che è stagno, uno che tatticamente gioca sempre così e non cambia mai, non ha senso. Lui ha detto, in base poi alle nostre esigenze cambieremo, ma poi comunque Garcia, secondo me, gioca sempre 4-3-3, ma è un modulo diverso dal 4-3-3 o anche 4-2-3-1 spallettiano, perché Garcia gioca molto in profondità, gioca molto a cercare subito Kvalaschelia, che dovrà essere ancora più che tecnico, veloce, fisico, dovrà sfruttare ancora meglio la sua propensione importante alla velocità, perché Garcia comunque ama distendersi, però, per un Kvalaschelia supportato da Mario Lui, che si spinge, servita dall'altra parte un Di Lorenzo molto più accorto, perché non puoi giocare con due esterni di spinta, altrimenti fai come Zeman e guardate un po' Zeman, dov'è con tutto il rispetto. Ecco, quindi secondo me questa è una lettura interessante, e poi se resta Zeman, e ci colleghiamo all'altro tema, lui ha detto chiaro e tondo, nessuno è insostituibile, l'ha detto chiaramente, ha detto che qui, chi c'è c'è, non cambia niente, tra virgolette, Zeman è un grande giocatore, sì, ma chi c'è c'è, io faccio il meglio con quello che ho. E questa è anche un'altra cosa comunque che, secondo me, ADL ha premiato, il fatto di uno che non ha messo tante garanzie, io sono convinto di questo, Garcia è stato uno che comunque a Roma si è visto vendere anche tanti giocatori, e nonostante questo ha fatto bene, quindi se dovesse arrivare, De Laurentiis ha detto che Zeman comunque c'è una bozza di accordo sul rinnovo, però se arriva un'offerta pazza, chi può saperlo? Quindi ha fatto intendere che se arriva un'offerta buona, Zeman può anche partire, ma si sapeva. Però Garcia comunque sa fare bene, anche se tu gli levi qualche tassello, Poi certo, se c'è Zeman, uno che gioca in velocità, capirai, ci vanno a nozze, però non è detto. E poi chiudiamo anche con un altro tema, che si ricollega al primo, che è l'ambizione. Garcia si è fatto un po' punzecchiare, diciamo, tra virgolette, ridendo da De Laurentiis, che ha detto che è arrivato in semifinale di Champions con il Leone, quindi ora puntiamo alla finale, puntiamo a giocarci la finale, ad arrivarci, poi si vedrà come andrà. È un obiettivo ambizioso, però Garcia ha detto, io gioco tutto per vincere, ha detto il Presidente, ha messo un'asticella molto molto alta, ed è vero. Ma io gioco per vincere tutto, e quindi il Napoli riparte giustamente, la Champions, difficile, quasi impossibile, perché la grande opportunità il Napoli l'ha avuta quest'anno, l'ha avuta quando comunque si è capitato, in un quadro comunque in cui, c'erano Benfica, Inter e Milan, e quindi difficile, che ti ricapiterà qualcosa di simile. però il fatto che lui riparta, per vincere subito lo Scudetto, è segno di grande ambizione, ed è giusto così, perché il Napoli, certo, è difficile comunque ripetersi, negli ultimi 4 anni, 4 italiani diversi hanno vinto lo Scudetto, Juve, Inter, Milan e Napoli, quindi questo è un quadro interessante, su quanto sia effettivamente poi, competitiva la Serie A, ma il Napoli, che ha vinto lo Scudetto, deve ripartire, per vincere un altro Scudetto, non si può pensare che tu vinci, e basta, poi ritorni a giocare, per arrivare in Champions, quello è l'obiettivo minimo, il Napoli deve arrivare in Champions, deve, poi però deve lottare anche per lo Scudetto, altrimenti il Milan quest'anno ha fallito, il Milan campione in carica, che arriva quarto, soltanto perché la Juve viene penalizzata, ha fallito, ha palesemente fallito, e Garcia deve essere bravo a non fare questo, ha comunque una eredità pesante, ma anche una buona, un'ottima squadra, che però deve fare, rendere lui, come si deve, e con questo penso, che abbiamo analizzato comunque bene, la situazione, io penso che Garcia, sia un grande allenatore, in generale, ma perfetto, o comunque molto funzionale, a questo Napoli, adesso però tocca anche a voi, scrivere qui sotto il vostro parere, e mi raccomando, iscrivetevi, che è fondamentale, e lasciate anche tanti, tanti, tanti like, ciao!